Dichiarata insolvente, ennesima ammazzata per l'azienda valdarnese FIMER di Terra Nuova specializzata nella produzione di inverter fotovoltaici. Da Milano arriva la doccia fredda, lo stato di insolvenza di fatto dà avvio all'amministrazione controllata. Saranno tre i commissari che verranno nominati e a cui sarà dato l'incarico di gestire la realtà produttiva e trovare una soluzione alla vertenza, che a questo punto riparte da capo. La FIMER si trova al centro di varie vicissitudini dal 2021, con numerosi colpi di scena che sono culminati nell'occupazione dello stabile da parte dei dipendenti. A giugno il passaggio della competenza per decidere sul suo futuro dal Tribunale di Arezzo a quello di Milano per uno spostamento della sede legale. È importante sottolineare che i piani, ora giudicati inammissibili, sono quelli presentati dagli ex amministratori dell'azienda, recita una nota del fondo Grey Bull Capita e McLaren. Il fondo continua la nota conserva la ferma convinzione che FIMER abbia di fronte a sé un futuro promettente, una volta che sarà in grado di distaccarsi con decisione del proprio passato. Le recenti evoluzioni sul piano legale possono offrire a FIMER la possibilità di un taglio netto e di un reale nuovo inizio. Abbiamo agito con ogni mezzo a nostra disposizione per supportare FIMER fino a ora, inclusi gli investimenti iniziali approvati dal Tribunale di Milano. Rimaniamo pienamente impegnati, continua la nota, in qualità di investitori e partner industriali nel garantire che FIMER raggiunga il suo pieno potenziale. Lavoreremo in stretta collaborazione con i dipendenti e con tutte le parti coinvolte con l'obiettivo di conseguire insieme la soluzione più efficace a questa situazione.